Etna Group è un'azienda manifatturiera specializzata in soluzioni di fine linea del settore packaging e produce macchine volgitrici, semiautomatiche ed automatiche, fardellatrici ed incartonatrici industriali. L'headquarter è a Villa Verrucchio, in provincia di Rimini, e l'azienda è strutturata in quattro stabilimenti produttivi in Italia, uno negli Stati Uniti, uno in Brasile e da breve uno in Cina, e sette filiali nei principali paesi industrializzati. Aetna è un gruppo in forte espansione e persegue una strategia di crescita con una chiara visione internazionale, local for local, per essere sempre più vicine ai propri clienti. Da questi presupposti è nata la decisione di implementare il gestionale SAPA. Per sostenere questo processo di internazionalizzazione era necessario dotarsi di un'infrastruttura tecnologica riconosciuta ed apprezzata nel mondo ed in grado di accompagnare il nostro processo di crescita. Tante sedi, un'unica infrastruttura, lo stesso forma di reporting, con l'obiettivo di agire come una one company nel mondo. Abbiamo scelto SAPA perché è un ERP riconosciuto a livello internazionale, completo e consolidato. Grazie al supporto di Orsa abbiamo implementato SAPA in tutti gli stabilimenti produttivi italiani e in gran parte di quelli esteri. Il progetto ha avuto un forte e positivo impatto sui processi gestionali delle società produttive e anche commerciali. Ci siamo poi concentrati su due progetti strategici riguardanti il CRM e la Business Analytics. E abbiamo scelto sempre soluzioni SAPA. Con il CRM C4C di SAP abbiamo reso disponibili ai nostri area manager, in modalità real-time, tutte le informazioni sulle attività commerciali, dalla raccolta dei lead fino alla negoziazione finale. Il risultato raggiunto è stato quello di gestire più efficacemente le relazioni con i clienti e, nello stesso tempo, mettere a disposizione di tutta l'azienda il patrimonio di informazioni e relazioni sviluppato dai nostri collaboratori che operano sul mercato. Il progetto Business Analytics, che abbiamo sviluppato con SAP Business Object, ci consente ogni mese di creare un analytic book, sostanzialmente un insieme di report che verificano l'andamento dei QPI dalle diverse aree aziendali. Essendo uno strumento unico, ha il vantaggio di poter avere, in un unico documento appunto, la misurazione delle performance delle aree aziendali e alla direzione di intervenire prontamente dove necessario. I risultati raggiunti nel miglioramento dei processi aziendali e del controlling sono tangibili. Grazie al percorso intrapreso con Orsa, abbiamo messo a disposizione dell'azienda report patrimoniali, gestionali e QPI di ciascun servizio, originati da un database comune che offre garanzie di correttezza dei dati e univocità dell'informazione. La disponibilità di queste informazioni è sempre aggiornata e un prezioso supporto al management e dagli amministratori per gestire professionalmente l'azienda. Grazie a tutti.